Parliamo della Miglianico Tour che invece è giunta alla 52esima edizione con un percorso appunto identico per ogni ente ruota e qui si va con i piedi perché parliamo di podismo. 700 concorrenti alla partenza nella gara degli adulti, 200 i bambini con età da 0 a 9 anni. Vince la gara col tempo di 58 minuti e 3 secondi Lorenzo Dell'Orefice della società Terno Pescara. Un tempo di tutto riguardo che sembra destinare l'atleta a prestazioni importanti nelle prossime edizioni. In campo femminile, bissa il successo dello scorso anno, la pescarese Marica Monaldi della società Passologico. Il tempo anche in linea con le prestazioni delle grandi del passato che hanno partecipato alla Miglianico Tour. Tanto pubblico, una soddisfazione generale per aver ritrovato lo spirito di una gara che ha fatto la storia del podismo abruzzese. 52 edizioni consecutive su un percorso, dicevo, rimasto identico a quello della prima edizione. Ha partecipato alla gara dei 9 chilometri anche il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio.